Ciao a tutti dal Salvatore, grandissima sorpresa, Eleonora Cece, molti la ricordano a Nonella Rai e adesso è una bravissima attrice che potete vedere in teatro, adesso abbiamo fatto una cosa molto bella alla cecchignola per tutti i generali insomma per il corpo armato, insomma una cosa bellissima ci potrete vedere comunque su internet, potrete vedere tutti gli aggiornamenti dei nostri spettacoli diciamo tutti i riferimenti su internet su facebook e poi c'è la mia pagina ufficiale, sempre Eleonora Cece non cambio mai il nome, io lascio sempre il mio non metto mai Eleonora Cece, 1, 2, 3, no, no, Eleonora Cece è poco e basta perfetto, salviamo tutti i tuoi fans un abbraccio a tutti, grazie a te, al salutatore e salutatore eccolo, grazie grazie, vi aspetto numerosi e alle prossime commedie, grazie e un saluto a tutti lo Stantici di Non è la Rai e sì, un abbraccio ciao